io tu fai la motosega poi questa è quella cattiva due domeniche fa abbiamo tagliato quello con il mio Vito ti conviene tagliarlo lì in alto conviene tagliarlo qua o qua o qua vieni qua Vito vieni da questa parte qua qua sarebbe meglio venire di qua lo so tagli scaldala lo so Grazie a tutti. Ok, cade tutto eh. Lascialo qua che così tiene lì un pozzoso. Qua lo lascia anche appoggiato. Perfetto, basta, va bene. Va bene così. Va bene così. Va bene. Accendi Vito. Va bene. Grazie. 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 Grazie.